Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, video di confronto e soprattutto format che in passato vi è piaciuto tantissimo infatti sul canale ho fatto tantissimi confronti tra le varie piattaforme di advertising confronti che vi invito anche andare a vedere appunto se siete finiti qui per la prima volta e volete togliervi qualche dubbio su alcune piattaforme messe a confronto eccetera eccetera ma poi se questi contenuti vi piacciono e vi piace quello che faccio supportate il canale, iscrivetevi e lasciate un bel like distruggendo il pulsante qui sotto oggi sul nostro ring del confronto abbiamo due piattaforme che io amo particolarmente da un lato abbiamo Instagram e da un lato abbiamo le TikTok Ads ovviamente parliamo di advertising quindi non vado a concentrarmi su come promuoversi in modo organico o quali contenuti pubblicare parliamo unicamente di advertising ok questo è importantissimo per me sottolinearlo ogni volta e oggi abbiamo due piattaforme non solo molto amate da me ma molto molto di tendenza, molto innovative e che per alcuni versi si sono anche scontrate non poco ultimamente soprattutto sulle creative e soprattutto sui formati vedete ad esempio i reel di Instagram che non sono altro che fondamentalmente una sorta di copia di quello che è il contenuto principale di TikTok ma bando alle ciance andiamo diretti su questo confronto prima cosa a sottolineare abbiamo due mondi molto simili ma diversi da un lato abbiamo Instagram, social che fa parte della rete delle aziende di Mark Zuckerberg quindi per chi non lo sapete se è sempre nello stesso paniere di Whatsapp e Facebook social che ormai è in diffusione da tantissimo tempo sicuramente nel nostro paese più diffuso in modo più eterogeneo non abbiamo principalmente un pubblico magari giovanile ma ormai Instagram praticamente chiunque ce l'ha ed è un social che ancora ad oggi ha un forte algoritmo ok molto intelligente con i giusti contenuti si riesce a veicolare bene la propria pubblicità a spingere l'engagement eccetera eccetera dall'altra parte abbiamo TikTok, le TikTok ads TikTok ha questa ombra di essere stato etichettato erroneamente e sottolineo erroneamente per quanto riguarda balletti, challenge o comunque un pubblico molto giovanile perché in effetti se noi andiamo a vedere il primo utilizzo quindi il primo pubblico che si è spostato lì è stato veramente molto giovanile tuttavia ad oggi è veramente riduttivo ok perché ad oggi su TikTok ci sono anche persone più adulte, imprenditori, liberi professionisti e soprattutto aziende che ci investono quotidianamente TikTok ha il grande vantaggio come ho già sottolineato in dei video dedicati qui sul canale che vi invito ad andare a ripescare di avere un algoritmo molto intelligente anche in questo caso e che riesce a capire esattamente che cosa piace all'utente e proporgli contenuti simili quando vi parlo di algoritmo molto intelligente è un dato da tenere assolutamente in considerazione per il mondo dell'advertising perché da qui dall'algoritmo derivano anche diciamo il registro delle azioni che gli utenti fanno e qui andiamo subito al secondo confronto abbiamo appunto Instagram che è una piattaforma presente in questo mondo da più tempo quindi ha più dati proprio perché ne ha raccolti di più proprio perché l'algoritmo ha registrato dove le persone interagiscono quindi dove commentano, dove lasciano like, quali profili seguono e quindi l'algoritmo si è arricchito di questi dati dall'altra parte abbiamo le TikTok ads che si muovono sì su un social più giovane quindi TikTok chiaramente ha attualmente meno dati però ragazzi ad oggi l'algoritmo di TikTok è lievemente più rapido in apprendimento rispetto a quello di Instagram e quindi sta macinando dati su dati anche lui è semplicemente una questione di tempo tuttavia è importante sottolineare che come confronto da una parte abbiamo Instagram che sicuramente ha più anzianità di utilizzo negli utenti parlo chiaramente nel nostro paese e ha più dati, dall'altra parte TikTok che ne ha un po' meno però dobbiamo essere consapevoli che è solo questione di tempo non stiamo parlando di un deficit di algoritmo o di un deficit lato social ci tengo sempre a sottolineare questo perché quando magari dico TikTok è più nuovo eccetera eccetera le persone pensano o arrivano alla conclusione che in realtà è inefficace non è assolutamente così, ve ne ho parlato nei miei video su Instagram ve lo dimostro continuamente i risultati che ottengo con le TikTok ads semplicemente ha bisogno di tempo per arrivarci ma l'algoritmo è molto molto intelligente terzo confronto è l'audience allora l'audience è eterogenea come ho detto all'inizio chiaramente noi ad oggi abbiamo la possibilità di raggiungere praticamente chiunque su entrambi i social ora è chiaro che Instagram avendo nel paniere anche Facebook come dati e anche Whatsapp chiaramente è più schillato quindi permette di capire esattamente chi vogliamo raggiungere dall'altra parte TikTok appunto proprio perché sta macinando dati ci sta arrivando quindi non è assolutamente, ripeto per l'ennesima volta, un deficit è una questione di tempo e comunque la targetizzazione, il lavoro che possiamo fare anche sui pubblici più caldi pubblico lookalike, pubblico hot in entrambe le piattaforme è molto interessante possiamo raggiungere le persone che hanno interagito con noi possiamo raggiungere persone, un audience fredda quindi interessata a determinati argomenti, target eccetera eccetera possiamo raggiungere un pubblico simile quindi se abbiamo un elenco dati se abbiamo un elenco di persone che hanno interagito con determinati profili nella fattispecie di TikTok possiamo farlo quindi a livello di audience possiamo veramente andare molto in verticale e raggiungere chi vogliamo raggiungere questo è un dato da sottolineare in modo molto molto interessante sia perché sono social molto utilizzati sia perché sono dei social che sono molto orientati al contenuto e qui andiamo alla quarta differenza Instagram è stato per molto tempo ed è tuttora un social dove i contenuti sono la cosa più importante se ci avete fatto caso a differenza di Facebook dove possiamo pubblicare, condividere, far parte di gruppi moltissime altre cose Instagram è sempre stato più concentrato al contenuto le foto, i video, i caroselli, le dirette stessa cosa TikTok su TikTok i contenuti vengono mangiati ancora molto più velocemente provate a entrare come utenti vi rendete conto di quanto scrollate per portarvi a casa il contenuto che vi piace proprio perché ce ne sono talmente tanti e quindi anche quando lavoriamo a livello di advertising l'elemento chiave per entrambi i social è il contenuto quindi il video che andiamo a utilizzare l'immagine che andiamo a utilizzare come è creato, come è confezionato più che il copy quindi il testo che praticamente su TikTok è quasi inesistente mentre su Instagram comunque possiamo ancora inserirlo e se vogliamo muoverci su un copy molto lungo possiamo farlo l'elemento chiave delle ads è sicuramente la creatività intesa come foto, intesa come video, intesa proprio come comunicazione quello che diventerà un pattern interrupt in grado di fermare il feed e lo scroll ed è per questo che vi ho sottolineato che di contenuti su entrambe le piattaforme ce ne sono tantissimi e quindi è importante avere dei video, delle immagini comunque delle creatività che facciano il loro lavoro che siano in grado di fermare l'utente diventa fondamentale perché altrimenti veniamo completamente ignorati a differenza di altri social o comunque altre piattaforme di advertising dove possiamo lavorare di copy di ricerca consapevole eccetera eccetera qui dobbiamo avere veramente tantissime creatività su TikTok di più che su Instagram assolutamente ma il fulcro del nostro advertising deve essere necessariamente quella che è la creatività prima di arrivare al quarto punto iscrivetevi al canale e lasciate un like se ancora non l'avete fatto e il quarto punto parliamo di costi e di budgeting allora abbiamo già fatto questo confronto tra Facebook e TikTok e come costi ha vinto TikTok ad oggi tuttavia va fatta la stessa medesima premessa quindi è importante la strategia è importante andare a capire chi è il nostro buyer persona andatevi a ripescare il video che trovate sul canale del buyer persona così capite e in generale guardate tutti i video che pubblico perché parliamo di strategia, di marketing, di tantissime cose e chiaramente ad oggi TikTok è sulla cresta dell'onda perché ha dei costi nettamente inferiori rispetto ad altre piattaforme d'altro canto però Instagram è comunque una delle piattaforme che ad oggi fa divertire di più con costi più bassi rispetto ad altre tuttavia è fondamentale la strategia i posizionamenti che andiamo a utilizzare la temperatura di traffico, le creatività e quanto noi analizziamo i dati prima di scalare prima di ottimizzare tuttavia metrica alla mano ad oggi essendo che io mi sporco le mani tutti i giorni e proprio anche in questo momento sto spingendo tanto su TikTok Instagram e Facebook e YouTube posso dirvi che sicuramente TikTok occupa lo zoccolo del costo più basso chiaramente ragazzi non vuol dire che attivate le campagne e succede il finimondo ma serve un metodo efficace testato per farlo Instagram è comunque ancora molto vantaggiosa quindi non significa che dovete chiudere Instagram per andare solo su TikTok è sicuramente più vantaggiosa di altre piattaforme ma il fulcro, ok, i costi sono più bassi eccetera eccetera è sempre andare a compilare quel buyer persona perché ci permette di capire innanzitutto chi è il nostro target innanzitutto dove si trova quindi come possiamo raggiungerlo e con quale comunicazione possiamo farlo, ok? in conclusione quindi chi vince tra Instagram e TikTok? dal mio punto di vista sono pari merito ovviamente TikTok ad oggi è un paradiso perché di fatto ha costi pubblicitari più bassi c'è molta meno concorrenza rispetto Instagram che ormai è pieno di concorrenza sicuramente non ai livelli di Facebook però comunque è presente chiaramente per entrambi il contenuto è la chiave di tutto ed è la cosa su cui dobbiamo focalizzarci assolutamente non prendete sotto gamba l'idea di andare fuori senza strategia o con contenuti approssimativi che non sono stati adattati per quella piattaforma sono piattaforme veramente dove il contenuto è il king dove il contenuto è il fulcro quindi quando usciamo con delle ads dobbiamo avere delle creatività pensate per queste non dobbiamo riadattarle questa cosa è fondamentale ed è da prendere il prima possibile, ok? tuttavia sono due piattaforme molto valide sicuramente io in questo periodo mi sto divertendo molto di più con le TikTok ads proprio perché c'è meno concorrenza perché i costi pubblicitari sono più vantaggiosi se la strategia è messa giù bene e c'è un metodo efficace tuttavia anche le Instagram ads comunque sono ancora molto molto valide e nella fattispecie certi posizionamenti certe temperature di traffico permettono di avere dei risultati molto molto sorprendenti ragazzi finito anche questo confronto che comunque è un format che piace tantissimo anche a voi quindi sono felicissimo di portarlo vi invito a seguirmi, iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video Dalle Lorenzi è tutto, ciao guys!